Ciao qui è Joe, di Seduzione Attrazione. Nel video di oggi rispondo a due delle vostre domande che ci avete inviato. La domanda è, una ragazza molto più giovane, dopo averle fatto un regalo importante, non mi ha lasciato il numero di telefono. Perché? Molto semplicemente perché molto probabilmente ha sentito, o meglio ha percepito, come se tu, vero o non vero, che questo fosse, l'hai voluta comprare. Cioè, in realtà, cosa hai fatto? Hai cercato di mettere a disposizione un asset piuttosto che quello che è il tuo valore di uomo, le tue schizze tecniche, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi questo è un qualcosa che non funziona praticamente mai, ammesso che la ragazza non sia una gold digger. E questo di solito significa che, come dire, vi fanno penare le pene dell'inferno per darvela, se ve la danno, dopo che vi hanno asciugato fino al midollo. Ora, la cosa che è importante capire è che una ragazza molto più giovane, molto probabilmente, non si trova in quel periodo della vita in cui può essere una gold digger, statisticamente parlando. Ma è molto più semplice che sia una ragazza interessata a un lover, a un bad boy, per così dire. Cioè, alla classica figura di quello che la prende e la scopa, tanto per capirci. Ok? È un qualcosa di evolutivo, biologico, e lo spiego in Insider Mind, o meglio, spiego in Insider Mind quelle che sono le aspettative delle ragazze, statisticamente parlando, relativamente alla fascia di età. E se vi interessa, trovate il link in descrizione. Detto questo, fondamentalmente, se tu cerchi di conquistare, sedurre quello che è le ragazze, comprandole, tra virgolette, quello che succede è che molto spesso, come vedi in questo caso, che questa lezione sia di esempio, non ti rispettano, e quindi lei in realtà neanche ti lascia il numero. E mi dispiace, ma la realtà è che ha fatto bene, perché fondamentalmente hai pensato di comprarla, invece che di sedurla, per così dire. E quindi, in realtà, questa è semplicemente una lezione che tu devi imparare. Però, detto questo, ragazzi, io quello che vi consiglio, se voi siete a un livello strategico così pessimo, mi dispiace, ma non posso usare un altro termine, o meglio, sicuramente c'è un altro in italiano per rendere l'idea, ma il concetto è quello, vi consiglio di guardare quanto più dei materiali gratuiti che vi metto a disposizione, quanto meno quelli gratuiti, perché significa che purtroppo, in questo momento, vi piaccia o meno, ma in realtà è questa, non sapete dove andare a sbattere la testa dal punto di vista tecnico e strategico. E quindi finite a fare porcherie di questo tipo che hanno un solo fine prescritto, fondamentalmente, scritto in anticipo, che è quello che buttate soldi, non ottenete la ragazza, e, insomma, ci rimanete semplicemente male. Quindi aumentate quella che è la vostra comprensione e fate semplicemente quelli che sono i step che vi suggerisco, perché sono semplicemente i step da fare. Stop! Non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti, il primo passo per imparare ad ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare ad usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.